Cioè, ma più di essere veramente, voglio dire, io non vi chiedo mai niente, non vi chiedo niente, e soprattutto non è che faccio affidamento sul supporto che mi date, che mi comprate i dischi e tutti la sua, che voi i dischi manco me ne comprate, cioè, io dovrei essere Lady Gaga, dovrei stare...